Buongiorno a tutti, una delle eccellenze italiane è sicuramente la produzione del vino e in particolare del vino rosso. Io vengo dal Piemonte, chiaramente una delle principali eccellenze della produzione enogastronomica del Piemonte è proprio il vino e il vino rosso. È chiaro che quando parliamo di una bevanda, che è comunque una bevanda alcolica, parliamo di un consumo moderato di questa bevanda, ma sappiamo come in realtà il vino rosso è una miscela di tantissime sostanze. Nel suo interno infatti sono presenti sostanze che in qualche modo vanno a bilanciare quelli che sono gli effetti che età dipendenti o fattori di rischio dipendenti possono favorire lo sviluppo dell'aterosclerosi. L'aterosclerosi è la malattia dell'invecchiamento delle arterie. Il vino contiene soprattutto sostanze antiossidanti che derivano da un enzima che è presente nelle piante dell'uva, nella vite, che è un enzima che ha un nome particolare che è la stilbene sintetasi, che serve alla pianta per fare che cosa? Per produrre rosveratrolo. Il rosveratrolo è un antifungino naturale. Sapete che la vite può essere attaccata dai funghi e provocare dei grossi danni sulla sua struttura, per cui in realtà il fatto di poter avere un farmaco endogeno che tende a combattere questo per la pianta è un grande vantaggio. In più l'esposizione al sole ma anche alle variazioni della temperatura tra il giorno e la notte stimolano un'aumentata sintesi di questa sostanza, ripeto il rosveratrolo, che è una sostanza antiossidante. Cosa vuol dire? Vuol dire che impedisce quello che è l'ossidazione che fisiologicamente avviene già per esempio anche solo con l'invecchiamento o con lo sviluppo di quelli che sono i fattori di rischio che danneggiano l'endotelio, è una sostanza che favorisce la vasodilatazione mediata dall'endotelio. Ricordiamo che l'endotelio nel nostro corpo è talmente rappresentato che è l'equivalente di 5 campi sportivi di calcio, quindi è il tessuto più rappresentato nel corpo. La liberazione dell'endotelio del nitrossido di questa sostanza che è vasodilata permette ai vasi di essere sostanzialmente più pervi. Bene, nel vino sono contenute diverse di queste sostanze che in realtà permettono di far sì che appunto sia da considerarsi un antiossidante naturale. D'altro canto in quello che è la dieta mediterranea, è una dieta che sappiamo come riduce la probabilità di avere eventi aterosclerotici, quello che è fondamentale è il colore, quindi il colore, il rosso, il verde, il giallo di quelle che sono le verdure della frutta, ma anche il rosso del vino. D'altro canto già nell'antichità ci sono segnalazioni sia negli antichi romani, ma ancora di più nella Mesopotamia, che è la culla della civiltà, di tutte le civiltà, dove esistono delle tracce molto sicure sul fatto che venisse consumato un vino, che era molto diverso da quello che siamo abituati a consumare noi, ma comunque ci fosse già questo. E in un ritrovamento dell'epoca romana, del terzo secolo dopo Cristo, in realtà su una di queste anfore c'era la scritta Bibe vivi multid annis. Questo quindi è l'augurio che tutti voi pongo di bere con moderazione e di bere bene.